Sono Giuseppe Cocco e sto viaggiando lungo la Toscana dei Sapori per raccontare e suggerire a te turista o viaggiatore del gusto territori, luoghi, produzioni agroalimentari tipiche che rappresentano le biodiversità e le identità materiali e immateriali dell'Italia. Etrusca, romana, ghibellina e fiera avversaria di Firenze, Arezzo sorge alla convergenza tra Valdarno, Casentino e Valdichiana. L'Arno scende dal Falterona, formando prima il boscoso distretto montano del Casentino, quindi compiuto una grande curva, il Valdarno di sopra vale a dire il tratto che scende verso Firenze tra le propaggini del Pratomagno e le colline del Chianti. Dal fumaiolo nasce invece il Tevere, che disegna l'Alta Valtiberina, anche questa verdissima, tra l'Alpe di Catenaia e l'Alpe della Luna. La Valdichiana, infine, attraversa il sistema collinare che interessa la parte meridionale dell'Aretino. Si tratta dunque di un territorio per lo più collinare e montuoso, caratterizzato da colture arbore con oliveti, vigne e frutteti, e da un allevamento che ha risalto nei bovini di razza chianina. Rinomati anche i vini con la di OCG Chianti, Colli e Retini e le doc Valdichiana e Cortona. La strada dei vini e dei sapori parte da Arezzo, città dal volto medievale, con una scenografica piazza dove si corre la giosta del Saracino e un capolavoro assoluto del Rinascimento. La leggenda della vera croce, affrescata da Piero della Francesca in San Francesco. Nel capoluogo si fa mercato in piazza Giotto, dal fagiolo Zulfino, al cavolo Nero Riccio, dalla mela rugginosa della Val di Chiana, allo Zafferano Aretino. Poi si passa nel Valdarno, toccando molte varchi, celebre anche per i polli neri. Arezzo è il comune toscano capoluogo dell'omonima provincia, i cui abitanti sono detti Aretini o Arretini, il nome antico, e il suo padrono è San Donato. Fu sede della più antica università della Toscana e una delle prime in Europa. Conosciuta come città dell'oro e dell'alta moda, è stata patria di artisti e poeti quali Giorgio Vasari, Guido D'Arezzo, Guittone D'Arezzo, Cenne della Chitarra. Famosa per gli affreschi di Piero della Francesca, all'interno della Cappella della Basilica di San Francesco e per il Crucifisso di Cimabue all'interno della Chiesa di San Domenico, è nota anche per l'importante giostra del Saracino, che divide la città in quattro quartieri. Il quartiere di Porta Crucifera, conosciuto anche come Colcitrone, il quartiere di Porta del Foro, conosciuto anche come Quartiere di Porta San Laurentino, il quartiere di Porta Sant'Andrea e il quartiere di Porta Santo Spirito, noto anche come Quartiere della Colombina e corrispondente all'antico quartiere di Porta del Borgo. I fiorentini, per averla definitivamente, la comperarono due volte, la seconda nel 1384 per 40.000 scudi d'oro. Dalle ultime pendici occidentali dell'Alpe di Poti guarda il piano breve tramonti dove convergono Valdarno, Casentino e Valdichiana e dove l'ha portata allo sviluppo recente. Quel che si apprezza nel centro antico è il prevalente volto medievale. È lo scenario della sua terza stagione, la comunale dopo quella etrusca e romana, il giusto sfondo per quando gli aretini si radunarono in piazza grande a parteggiare fra i cavalieri che corrono la lancia contro Buratto, re delle Indie, e il suo sibilante flaggello, la giostra del Saracino. Sul colle San Francesco, la pieve romanica, il palazzo della fraternità dei laici, gotico-rinascimentale e più oltre ancora il duomo gotico, ricordano i grandi secoli della storia retina dal 1000, in cui le istituzioni comunali, i primi consoli sono del 1098, sorsero ad arginare il potere dei vescovi conti, alla fine del 1300, quando preda delle compagnie di ventura fu definitivamente inghiottita dallo stato fiorentino nel 1384. Fra queste due date una storia gloriosa di guerre con Firenze e Consiena, di vittorie come quella di Pieve al Toppo e di sconfitte come quella di Campaldino, di dantesca memoria. Attorno al 1200 la città si dotò di nuove mura che cingevano la collina lungo il percorso dell'attuale via Garibaldi, mentre a nord-est si collegavano a quelle etrusco-romane, perché molti secoli prima Arretium fu importante centro-etrusco arroccato tra la pieve, il duomo e la e poi più grande città romana, quando l'abitato si espanse verso la pianura prolungando le mura primitive. Dopo la sottomissione a Firenze, contro la quale tentò quattro volte di insorgere, si guadagnò nel 1500 per ordine di Cosimo I e per opera del Sangallo il rifacimento della fortezza e l'erezione di una nuova cinta muraria abbattuta poi attorno al 1870. Vastissima la panoplia di Arretini illustri, qui vissuti e dei quali in città in vario modo alleggia la memoria, da Caio Plinio Mecenate, Romano, Mecenate di Orazio e Virgilio a Petrarca, Vasari, Francesco Redi e ovviamente l'Aretino che riuscì a tenere nascosto il cognome popolano per accreditare la sua supposta illegittima discendenza da nobile famiglia. Dal torpore graduale in cui Arezzo cadde col Gran Ducato era andata riducendosi di popolazione e di importanza economica. La svegliò la costruzione della ferrovia Firenze-Roma tra il 1862 e il 1866. Sorse allora il primo nucleo della città moderna, lungo la nuova via Guido Monaco, ma è dal secondo, dopo guerra, la disordinata espansione urbana nella pianura, parallela alla crescita industriale.